Cos'è la jihad? La parola jihad significa lotta, o per essere specifici, lotta per la causa di Dio. Qualsiasi lotta fatta nella vita quotidiana per compiacere Dio può essere considerata jihad. Uno dei livelli più alti di jihad è quello di resistere a un tiranno e dire una parola di verità. Anche il controllo di se stessi dalle azioni sbagliate è un grande jihad. Una delle forme di jihad è prendere le armi in difesa dell'Islam o di un paese musulmano quando l'Islam viene attaccato. Questo tipo di jihad deve essere dichiarato dalla leadership religiosa o da un capo di stato musulmano che sta seguendo il Corano e la Sunna.